Ben trovati, il nuovo appuntamento con l'ospite, il protagonista di questa puntata è Franco Zammuto, segretario cittadino della CGL, ma anche coordinatore di Intercopa, il Comitato Intercomunale per l'Acqua Pubblica, responsabile del Comitato Civico Patrimonio Termale. Mi fermo qua perché lei ha più incarichi di un politico della Prima Repubblica. Grazie intanto per aver accettato l'invito. Partirei proprio dal Comitato Civico Patrimonio Termale perché è notizia degli ultimi giorni l'annullamento della manifestazione del 6 marzo, alla quale avevate tanto lavorato per promuoverla, per coinvolgere la città. Poi i fatti legati all'emergenza coronavirus vi hanno portato a desistere dal realizzare lo stesso la manifestazione. Quindi quali sono le ultime novità? Rimane mi pare qualcosa, si farà qualcosa per il 6 marzo? Intanto l'abbiamo sospeso con le intenzioni di riprenderlo nel momento in cui la situazione che si è creata dovesse venire meno. Speriamo che questo avvenga presto. Noi giorno 6 comunque avremo due gazebo. Uno in piazza per fare in modo che qualora qualcuno non l'avesse ancora appreso, magari passi da lì e venga informato della situazione. Allo stesso tempo avremo l'altro gazebo simbolico sulle terme perché riteniamo che comunque il 6 marzo vada ricordato come il giorno nefasto in cui vennero chiuse le terme. Quindi non rinunciamo all'idea di volere fare qualcosa. Speriamo quanto prima di poter riprendere il nostro percorso e quello di essere una città arrabbiata e indignata rispetto a quello che da cinque anni viviamo, cioè la chiusura delle terme che per noi rappresenta un volano fondamentale per il turismo, per incrementare il turismo perché già Ciacca di Sperse è conosciuta in tutte le parti in Italia, però purtroppo molti la conoscono anche per le terme ed è assurdo che noi non si abbia, visto il bacino termale che abbiamo così importante, che non si possano utilizzare con le finalità che sono proprie. Un triste anniversario, sono passati cinque anni, lei ha seguito la vicenda fin dall'inizio da sindacalista prima, poi ora recentemente con il comitato civico che si è costituito. È inutile ripercorrere ormai la storia, andiamo agli ultimi fatti e a questo famoso bando ormai in dirittura d'arrivo. Voi avete avuto un confronto con il dirigente, con il capo di gabinetto dell'assessore Armao, quindi avete potuto avere visione, avete preso visione di questo bando. Che cosa vi convince e cosa ancora non vi convince? Per quanto riguarda il passato non ci ritorno, però è giusto che debba ripetere che noi siamo stato l'unica organizzazione sindacale, la CGL di Sciacca Grigento, a fare nel settembre del 2015 l'esposto sulla questione delle terme, proprio per dire che in continuità di quegli eventi, in continuità di quello che fu, noi siamo sempre sul tema e non rinunciamo alla possibilità di riaprire le terme. Cosa ci convince? Sicuramente da parte della Regione abbiamo potuto apprezzare, questa è la mia sensazione, che effettivamente l'intenzione di riaprire le terme o di fare il bando più che altro, di fare un bando serio, quella ci sta tutta. La cosa che è deludente, non posso non dirla, ma esprimo un'opinione personale, la cosa deludente è verificare che in pratica Sciacca è passata in secondo ordine rispetto ad Acireale. Abbiamo potuto verificare, non è solo un'impressione, che Acireale che era considerata molto indietro rispetto alla situazione di Sciacca, con problematiche più complesse, più complicate, guarda caso adesso loro molti dei problemi li hanno risolti. Intanto perché nel 2016 fu fatto un investimento di 16 milioni di euro da parte della Regione per acquisire quel patrimonio, per poterlo rimettere nelle condizioni di essere appetibile. Per Sciacca solo 3 milioni e 3 e purtroppo dobbiamo dire che l'equidazione non si è potuta realizzare in questo modo. L'altro aspetto che abbiamo appreso in questi giorni proprio nel confronto con la Regione, purtroppo Acireale ha già risolto il problema di quello che dovrà essere domani da parte dell'imprenditore che volesse prendere Acireale, probabilmente c'è, hanno già la possibilità di stabilire il canone. Perché in otto mesi sono riusciti a fare modo di avere la valutazione dei beni. Ma sono riusciti chi? La Regione? Non penso che gli amministratori di Acireale avranno fatto la loro parte. L'agenzia delle entrate di Catania è stata messa, è stato chiesto di poter fare la stima. Per quanto si dice che abbiano avuto grosse difficoltà, in otto mesi sono stati molto pressanti. Queste sono le notizie che abbiamo audito, non che loro le abbiano messo per iscritto. Però abbiamo scoperto che lì si è attivata questa procedura e quindi oggi hanno la possibilità di fare una stima dei beni di Acireale. Invece qui non è successo ancora e io vorrei capire di chi sono le responsabilità perché questo non è successo. Forse c'è una classe politica più diligente, forse noi abbiamo avuto la sfortuna di avere un certo crocetta che ha chiuso le terme, loro hanno la fortuna di avere un musumesci capace di riaprire le terme di Acireale. Questi sono fatti e noi… Questi fatti non confermano in fondo quanto si diceva nei mesi scorsi, negli anni passati e cioè fino a quando Acireale non sarà pronta a partire Sciacca rimarrà bloccata con la vicenda termale. Cioè a questo punto dobbiamo dire che avevano ragione quanti asserivano questo. È quello che ho detto però esponendomi personalmente, sono io che sto pensando queste cose e non vorrei coinvolgere in questo altri. È chiaro che a me viene da sindacalista quale sono e posso anche esprimere un giudizio di questo tipo. A me sembra che c'è una classe dirigente dei territori diversa. A me sembra che altri hanno la possibilità di incidere sulle scelte del governo, mentre su questo territorio per quanto tantissimi abbiano dimostrato grande impegno, alla fine qui siamo indietro rispetto alle complicanze che c'erano a Catania da Acireale e le complicanze che ancora permangono da noi e che impediscono di poter fare oggi il bando perché è difficile anche stabilire quale sarà il canone. Canone che non è una cosa indifferente, è il problema dei problemi in quel bando perché tante sono le difficoltà e sono stati e sono i problemi, ma c'è la volontà di superarle. La cosa che mi sento di dire in questo momento è che secondo me l'accelerazione sul bando di Sciacca è quasi per giustificare quello che ci dovranno dire probabilmente a breve e che magari lì c'è già il partner. Se questo dovesse accadere mi auguro di no, ma non perché non voglio, io vorrei che sia Acireale che Sciacca decollassero entrambe, ci mancherebbe altro, ma questo dislivello o questo superamento del livello da parte di Acireale rispetto a Sciacca a me lascia pensare le cose che ho dichiarato e che mi sembrano chiare. Quindi questo bando ancora non è definito? Sembrava di capire che fosse pronto, che la regione fosse lì per pubblicarlo nelle prossime settimane, mi pare di capire che così ancora non è? Così ancora non è per ammissione dello stesso Piscitello che ha detto che non siamo proprio nella fase finale, però non occorrerebbe molto tempo. È chiaro che quella della possibilità di dare da subito il canone, di stabilire un canone provvisorio è una cosa necessaria. Tu non puoi prendere in giro l'imprenditore. L'imprenditore deve rendersi conto di quella che è la situazione patrimoniale. L'imprenditore non viene, non viene. Poi un'altra cosa che io ho sempre sostenuto in quei tavoli e quello che secondo me l'idevisor è fondamentale, nel senso che qualunque bando tu metti in atto, a meno che già non siano appetibili di per sé come qualcuno pensa, io ritengo che portare avanti le terme di sciacca nella loro qualità, nella loro appetibilità, questo lo può fare un vero idevisor che conosce il mondo dell'impresa turistico termale e viene più facile se tu hai un riferimento di competenza rispetto a questo per divulgarlo, a meno che la Regione non sarà così capace di renderle già interessanti e appetibili nel momento in cui questo bando viene fatto. Lasciarlo lì anche in un bando internazionale o un bando europeo a cui sempre si fa riferimento è senza dubbio importante, però non credo che possa penetrare così come è capace di fare un idevisor. Quindi il canone è da definire, quali altri aspetti sono ancora da definire? È stato detto che è stato superato ad esempio il problema delle stufe, delle strutture sul Monte Cronio che non era di poco conto. Pur nella complessità, perché anche questa questione è un po' complessa, noi abbiamo anche paventato l'ipotesi che possa essere un deterredde, nel senso che può indurre l'imprenditore a riflettere molto di più. Il fatto che vengano messi insieme si facilita sicuramente il compito perché un bene patrimoniale quale l'albergo mai aperto, che necessita di investimenti importanti, è un bene demaniale che è inalienabile, quali sono appunto le grotte vaporose, questo sicuramente è una soluzione, però è una soluzione che può creare complicanze. Ci sarebbe anche lì la situazione, lo snodo per poter eliminare qualche difficoltà rispetto a questo, però è chiaro che l'imprenditore dovrà convincersene che un domani lo sufrutto che gli si concede non sia una complicanza anche economica, di responsabilità più che altro, perché magari non vorrà intervenire immediatamente, potrebbe rinviare l'investimento se e quando lo ritenesse opportuno, però il fatto che l'usufrutto gli venga assegnato gli può anche determinare delle responsabilità. Senta, da questo bando sembrerebbero esclusi il Parco delle Terme e l'ex Convento San Francesco, su questo punta il Comune di Sciacca, l'amministrazione comunale, l'associazione, ad esempio l'altra associazione, ora basta, si è espressa contro queste ipotesi, non condividendo questa esclusione di questi due beni. La vostra invece è una posizione diversa, mi sembra di capire, che non avete nulla in contrario ad una gestione, chiamiamola così, comunale di questi due beni. Al tavolo, che era presente anche ora basta, diciamo che sulla questione del Parco abbiamo convenuto una stessa soluzione e non riteniamo che sia così difficile trovare quella soluzione che possa interessare e che possa coinvolgere molto l'imprenditore, così come il Comune non deve rinunciare al fatto che gli sia stato affidato. La finalità è quella di rendere il Parco fruibile alla cittadinanza e questo credo che sia facilmente superabile anche nelle forme che hanno assunto ormai, diciamo, consolidate anche dalla regione, da questo governo regionale che non ha inteso modificare quello che era stato compiuto con il governo Crocetta. Per quanto si possa, diciamo, inanellare il dibattito politico su questa questione, non è questa la difficoltà ed è superabilissima. Quello che è sull'ex Convento San Francesco? Sull'ex Convento San Francesco ci sono obiettive e ragioni di impedimento al momento, nel senso che si dovrebbero superare altri ostacoli che al momento non accelererebbero più di tanto il bando. C'è un problema di accatastamento? C'è un problema di accatastamento e non solo, anche perché, diciamo, potrebbe fare parte, questo lo deduco, insomma, ci sono, diciamo, delle discussioni in atto, dal fatto che ci possono essere progetti anche più appetibili rispetto a quello che potrebbe essere, diciamo, l'inserimento nel contesto del pacchetto di tutto il patrimonio termale. L'impressione vostra qual è da questo confronto? Che comunque c'è la volontà anche della regione di coinvolgere questa città, di renderla partecipe, in fondo è questa la lamentela che abbiamo mosso in questi lunghi anni, decidono tutto a Palermo alla fine e ogni decisione c'è stata calata dall'alto, sin dalla chiusura delle strutture termali. Voi, tra l'altro, avevate chiesto, chiedevate da mesi un confronto con l'assessore Armao e solo dopo mesi siete riusciti ad ottenerlo, in procinto ormai della definizione del bando? Lì, aiutati dalla deputazione territoriale, da tutta la deputazione territoriale, nessuno escluso, quindi il merito va sia a Pullara, che nonostante sia distante da questo territorio, sia adoperato, il merito va alla Rubolo, che è stata veramente, diciamo, ci ha consentito due volte di essere alla Sesta Commissione Sanità, pur essendo quella in assoluto più interessata, però ci ha concesso di fare delle udienze dove sono state sviscerate alcune delle problematiche che poi adesso stiamo vedendo di risolvere. E lo stesso Mangiacavallo, che si è adoperato anche con l'assessore Armao, trasmettendo tutte le nostre note, facendo in modo che queste, quando siamo arrivati al tavolo, anche se non era presente l'assessore Armao e Piscitello, abbiamo potuto verificare di avere preso in considerazione, di avere anche smussato e valutato il modo per superarli. Per cui questo ringraziamento va fatto al di là delle cose che ho detto prima, che restano tutte intere. Noi siamo convinti che c'è questa volontà, ma come... Ma questa volontà veniva ribadita da anni, cioè mai si è detto no, non mi convolgiamo, non ci interessa la vostra opinione. Sempre disponibili tutti sono stati, però nella realtà poi... Il problema è che la Regione non ha mai reso... non ha, dal 99, quando diciamo hanno modificato la volontà della Regione che da considerare strategiche, le Terme non le hanno più considerate strategiche. Questa è una cosa molto grave, nel senso che questi due patrimoni termali di Acireale, fermo restando che ce ne sono altre in Sicilia, andavano valorizzate, andavano sfruttate nel periodo in cui queste dovevano essere già messe nella disponibilità dell'economia e dello sviluppo dei nostri territori. Il fatto che adesso stiano accelerando, a me risulta evidente un certo interesse che è stato portato avanti dall'interesse di un territorio. Ne stiamo forse beneficiando, ma spostando le due assi di livello che c'erano prima e che oggi hanno trovato una simmetria diversa. Vi siete dati appuntamento, avete ulteriori incontri in programma, visto che saranno settimane decisive, mesi decisivi pare di capire, no? Abbiamo l'impegno di Piscitello di farci incontrare di nuovo Armao per smussare gli ultimi elementi che sono appunto quello del canone che va inserito, che è quello principale, e alcune altre cose che non hanno la stessa valenza ai fini del bando. Noi riteniamo che adesso probabilmente arriveremo quantomeno al bando, dopodiché non significa che è uscito il bando con i crismi di un bando che merita di essere emanato, non è detto che si vada a trovare... Che ci siano le disponibilità, subito. Che ci siano le disponibilità e che si superano tutte le serie di problematiche che ci sono. E che su quelle delle disponibilità vada fatto qualcosa in più, che non è solo il mettere in bando un patrimonio, ma quello di andare diciamo proprio a sollecitarlo, anche se qualcuno ritiene che già sono appetibili di per sé e che molto probabilmente il mondo, diciamo, del turismo termale sicuramente non sfuggirà a questa occasione. Senta, le termine di Sciacca e le termine di Acireale, chiuse da anni, sono l'emblema del fallimento e della miopia della classe politica regionale, quantomeno a vari livelli e da destra a sinistra perché poi si sono succeduti vari governi nel tempo, c'è in qualsiasi altra regione, parte del mondo, strutture come le termine di Sciacca, le termine di Acireale sarebbero state prima affidate ai privati, prima rilanciate verso un turismo, un termalismo del benessere perché non poteva essere più quello strettamente legato all'aspetto sanitario. Sono il simbolo di come ci siamo fatti male in questa Sicilia per decenni? Devo una risposta a quello che hai già detto. Io ho il comitato, che devo ringraziare, intanto l'occasione per ringraziare tutti i componenti del comitato che si sono impegnati veramente in maniera incredibile. Molto spesso le vostre emittenti hanno mostrato le immagini di tutti gli incontri che abbiamo fatto. Quando siamo andati nelle scuole abbiamo parlato con i carlisti, abbiamo parlato con il centro commerciale, siamo andati proprio a dire questo, come è possibile? Ho detto in ogni dove che Greta sarebbe felice di vivere in un ambiente del genere dove il rispetto per la natura e il rispetto per l'ambiente è considerato che tutta l'attività produttiva di questo territorio potrebbe nascere non contaminando l'ambiente, che è quello che va predicando. Perché noi abbiamo turismo, sole, marineria, agricoltura, che sono la nostra ricchezza. Non sappiamo vendere la nostra agricoltura, non sappiamo vendere i nostri prodotti ittici, non sappiamo vendere il nostro territorio, i templi selenuntini, i templi di Agrigento, la miniera di sale che c'è qui vicino, la bellezza di carta bellotta, le arance di ribera. Vado dicendo queste, la ripeto, continuamente per fare capire che un'attività, tutte queste cose messe insieme, sono veramente un patrimonio sicuramente appetibile se si sa vendere. Non ci proviamo nemmeno. Questa Sicilia, amministrata, io poco fa ho fatto l'analisi critica di due territori della Sicilia, ma messa insieme la Sicilia veramente... Io ho detto l'emblema, infatti, di tutta la Sicilia che poi non funziona, non sa sfruttare appieno le proprie risorse. No, ma scusate, per esempio, molto spesso non si parla bene delle parti sociali, anzi, la politica ha cercato di distruggere le parti sociali. Il 25 gennaio sono state le parti sociali a fare capire che questo territorio deve risorgere. E sono state loro insieme alle diocesi a dire che noi manchiamo del tratto autostradale che in tutta Italia è l'unica provincia d'Italia che non ce l'ha. Allora, si costituiscono i comitati? Benvengano, è un segno di democrazia, ma non possono essere i comitati a sollecitare sempre la politica. La politica non dovrebbe avere necessità dei comitati. Già esistono, diciamo, parti sociali costituite, che sono le organizzazioni sindacali o altro. Purtroppo c'è anche bisogno del comitato, perché il comitato interviene lì dove la politica è cieca. E non è cieca, è un modo, diciamo, gentile per descrivere quello che è la politica siciliana. Noi non possiamo continuare a pensare che ci vengano i finanziamenti. Nel terzo millennio, se non produci ricchezza, non puoi andare avanti. Non possiamo pensare all'assistenzialismo. il reddito di cittadinanza, beh, venga. Ma non possiamo pensare che il reddito di cittadinanza debba risolvere i problemi di un intero territorio. E allora noi abbiamo delle ricchezze che vanno seguite, che vanno attenzionate e che vanno sviluppate. Se su queste, con tutte le difficoltà che avremo, perché già siamo una terra, come dire, bistrattata, una terra che manca 50 anni di politica e quindi di infrastrutture, di interesse della politica a fare crescere, si sa che il divario nord-sud in questi 15-20 anni è aumentato. E ma se noi abbiamo bisogno dei comitati per dire cosa si deve fare o delle pressioni che dobbiamo fare alla politica per fare comprendere che certe cose vanno portate avanti, beh, questo è un fallimento totale. Siamo messi male. Comitato per le terme, comitato per l'acqua. Il comitato per l'acqua è iniziato una battaglia anni e anni fa. 2010. Prima contro la privatizzazione, quindi contro l'affidamento a Girgenti Acqua e di questo servizio. Poi sta svolgendo un ruolo comunque importante nella fase in cui si è costituita salati e si è deciso di affidare ad una società, ad un'azienda speciale consortile la futura gestione del servizio idrico integrato. Le chiedo, lei che è il coordinatore del comitato a livello provinciale, proprio intercomunale per questo motivo, perché poi è un servizio che interessa tutta la provincia. In che fase siamo? Anche qui si va verso la Costituzione, però arrivano di fide. Siamo in ritardo, non siamo in ritardo. Accuse vanno e vengono tutti i giorni. Allora, intanto ci tengo a dire che non è mai stato dato merito alle organizzazioni, alle associazioni, ai comitati per avere ottenuto il risultato che ancora non si acquisisce, che i comitati hanno spinto per la risoluzione e che è la risoluzione arrivata. Tutti pensano che la risoluzione sia arrivata perché il prefetto ha fatto l'interdittiva, ha emanato l'interdittiva contro i dirigenti. Quella è una questione che attiene a questioni mafiose. La risoluzione è avvenuta perché per le adempienze del gestore. Sono due cose completamente diverse. L'ha accelerata. Io dico che la risoluzione è stata avviata nel 2018. Ma non si arrivava poi mai al concreto? Diciamo che ha dato una forte accelerazione. Quella ha consentito di dare un'accelerazione, ma ad un processo già avviato. Per cui non è vero che la risoluzione è prefettizia. La risoluzione è per le adempienze. Non solo. L'ATI, quando si è costituita, si deve sempre alle pressioni del comitato e dei comitati. Intanto dico del comitato perché adesso sono un po' seccato con certe altre situazioni che vengono dettate da un altro comitato perché Intercopa si è costituita nel 2013, dopo che abbiamo fatto l'esposto insieme all'altra sciacca di Pietro Mistretta, che fu il primo ad intervenire sulla questione dell'acqua, già nel 2006 lui denunciava il rischio che si correva con un gestore privato. Nel 2010 io sono stato nominato segretario della Camera del Lavoro e verifichiamo quello che abbiamo verificato. Cioè che tutta la città protestava perché Girgentiacqua agì con degli steppe. È il primo territorio colpito dall'azione nefasta di Girgentiacqua e fu questo territorio. Quindi noi fommo i primi a venire a conoscenza e già nel 2013 facemmo il nostro esposto. Esposto in cui tutti quei rinvii a giudizio che oggi ha Girgentiacque da parte delle magistrature, noi le denunciammo molto tempo prima. Noi le tariffe taroccate le denunciammo con il nostro esposto nel 2013. Proprio quelle famose tariffe che oggi sono uno dei capi d'accusa più gravi per Girgentiacque, le tariffe 2012-2016. Noi le citammo già... C'è una dei canoni di depurazione, tante altre cose. Tutte queste cose. Ma noi abbiamo agito su due linee. Abbiamo chiesto dal primo giorno la risoluzione, ma nello stesso tempo noi andavamo al lato a dire che mancava la carta dei servizi, a dire che mancava il regolamento d'utenza, a dire che non potevano esserci le rateizzazioni, a dire che non era possibile tagliare direttamente l'acqua senza avvertire. Tutte queste cose le abbiamo ottenute nel tempo, ma la nostra battaglia era sempre rivolta alla risoluzione. Quindi sgombrato il campo da questo problema, dove siamo adesso? Adesso siamo che l'ATI costituita, purtroppo il nemico ce l'ha in casa. Perché ce l'ha in casa? Perché ci sono 5-6 sindaci che non fanno nel gioco del LATI. Rimproverare al LATI il ritardo è assolutamente... L'abbiamo fatto noi, noi come Intercope, abbiamo fatto dei comunicati dove si diceva che si doveva accelerare sia sulla costituzione dell'azienda speciale consortile per sostituire il gestore e sia anche sulle altre questioni, quali appunto quella della... Dello statuto, di tutti gli adempimenti, insomma. Ma quello che sta contestando i due, diciamo, le due diffide che hanno fatto la Regione, cioè quella dell'articolo 147 e l'altro del piano d'ambito. Noi abbiamo sollecito, quindi questo sollecito è giusto, ma si fa all'unico ATI costituita regolarmente in tutta la Sicilia. Quindi questo fatto non è un difendere, ma è un fatto di democrazia. Noi vogliamo che le istituzioni funzionano. LATI è un'istituzione. Quindi i 43 sindaci si devono lagnare della loro incapacità. Quindi se LATI dovesse veramente soccombere e arrivare alla diffida, ci sono quei 5-6 sindaci che perdono questo e che adesso sanno qual è il grave rischio che si corre. Il grave rischio è che, notizia di oggi delle tv locali, che si paventa da un anno, che è quello che il creditore Sicilia Acque possa avvicendare Girgenti Acque. Però questo, diciamo, non è facile, non è semplice, perché non si capisce perché già LATI, avendo deciso di, diciamo, portare avanti l'azienda speciale consortile, non è stata commissariata per via delle sue scelte di questo tipo, ma perché non c'è il piano d'ambito. Per il ritardo non è il piano d'ambito. Ma il piano d'ambito... Vi puzza questa diffida? È chiaro che puzza la diffida perché non devo difendere nessuno, ma è chiaro che già ci sono delle determinazioni assurde. Se è l'istituzione preposta, LATI, non si comprende perché si parla anche di cose così gravi, quale quella, appunto, la diceria che ci, diciamo, percorre da più di un anno, e cioè che il privato al 75% veolià voglia acquisire Girgenti Acque. Ma che se l'acquisisca? Però noi già l'abbiamo fatta fuori. Io non capisco come questo debba avvenire. Però questa paura c'è ed è... si deve sciogliere questa paura. Il ruolo del comitato. Voi dite, vero è che LATI è in ritardo su una serie di cose, che dobbiamo accelerare tutto, ma mi pare di capire che vi opponete in maniera ferma all'ipotesi che siano altri livelli a fare quello che LATI deve fare. Ma se, diciamo, un ufficio o un'istituzione viene, diciamo, come dire, il ruolo dell'istituzione viene bloccato, chiuso e qualcun altro deve decidere, questa è mancanza, diciamo, del rispetto delle regole e della democrazia. Anche perché deciderebbe senza ascoltare un territorio che è rappresentato dai sindaci. Vediamo scavalcati, scavalcati, e siccome già questo territorio ha espresso la propria volontà e l'ha espressa nella misura in cui ha cacciato via un gestore, chiede la privatizzazione, è l'unica ATI d'Italia che ha chiesto la privatizzazione e la pubblicizzazione dell'acqua e la vuole mettere in atto, interviene la Regione, interviene con due diffide che nulla hanno a che fare con queste scelte, perché si diffida per le questioni che sappiamo, il sequestro delle altre fonti di acqua e l'altra è quella del piano d'ambito. Ma queste, come si vede, purtroppo sembra che siano un altro disegno, cioè che nascano da un altro disegno e questo è grave. Ora, comprendo che qualcuno abbia l'idea che il privato sia sempre il migliore, sicuramente non l'ha dimostrato Girgentiacque, è stato cacciato un gestore incapace che a distanza di 15 anni, dal 2007 ad oggi siamo a 13 anni, non ha portato un litro di acqua in più nelle nostre reti, non ha ristrutturato un metro di rete, non ha collaudato una sola diga o quelle che sono le nostre riserve, non ha fatto nulla, dico nulla di nulla, ha comprato acqua quando non ce n'era la necessità, non ha ottemperato a quelle che erano le proprie prorogative anche sulla 147, perché si ha fatto delle diffide, ha perso tutti i ricorsi che ha fatto e questo si deve dare merito a Lati, è Lati che è impugnato, cosa che non ha fatto Lato, che noi abbiamo sollecitato a suo tempo, perché Lato è stato inadempiente in tutte le sue forme. Senta, una delle cose che però ancora Lati non è riuscita a chiarire, a definire, ad esempio la vicenda dei comuni dissidenci, ancora non si capisce quali comuni e quanti potranno continuare a gestire i propri impianti, non le risorse idriche, perché altrimenti il sindaco Valenti ci rimane male, si indispettisce perché ci tiene a precisare che le risorse idriche saranno a disposizione di tutto l'ambito provinciale, però questo non è un fatto importante, cioè si andrà ad esapporre all'attenzione di tutti e 43 consigli comunali, uno statuto, tutti gli atti che determineranno l'organizzazione poi della gestione. Ma vale anche per il piano d'ambito? Sì, ma lo facciamolo prima anche ai comuni che poi non vogliono comunque... La decisione sugli otto comuni che chiedono ancora l'applicazione dell'articolo 147 bis della legge, erano 16, sembra che degli otto qualcuno si vuole aggiungere adesso. Detto bene, sembra, non siamo riusciti ad avere un elemento di chiarezza. Allora, questa polemica è giusta, o meglio, portare avanti questa contestazione è perfetto, è giusto, perché l'ATI deve assumersi la propria responsabilità. Non può dire spetta agli uffici, è chiaro, gli uffici devono stabilire, però se non hanno un dirigente, se non demandano agli uffici per rinviare la scelta, questa è una cosa che va sicuramente portata avanti. Lei dice, sono i sindaci che devono assumere la decisione sulla base dei requisiti più o meno. Si deve applicare o non si deve applicare. Questo devono essere, diciamo, celeri perché interferisce anche sul piano d'ambito, perché se quei comuni saranno, diciamo, come dire, tutelati dall'articolo 147 bis, io penso che saranno due o tre eventualmente ad avere titolo di questo, ma è una mia opinione, poi eventualmente quando e se l'ATI deciderà, così come abbiamo fatto un esporto nel 2013, faremo un esporto al LATI per avere concesso qualcosa che non compete. Quindi è necessario fare chiarezza su questo prima di avviare qualsiasi tipo di gestione comune delle risorse? Sicuramente, perché questo è un punto focale, importante. Per cui questi, diciamo, questi tipi di attacchi al LATI o sollecitazioni al LATI vanno fatti, cioè LATI deve decidere. Punto. Dopodiché, anche sul piano d'ambito deve accelerare, perché nel gennaio 2021 noi dobbiamo sapere quali sono i finanziamenti che devono arrivare o veramente dovessimo perderli, avranno ragione gli altri. Ma non si può mettere in discussione. I sette, sei, otto sindaci che adesso, diciamo, stanno alimentando quelli che i comitati portano avanti e dicono, quasi perorano, diciamo, appunto i commissariamenti, sono incoscienti, anche perché non comprendono che loro stessi sono responsabili di tutto. Perché se non sono capaci di decidere all'interno del LATI, è un loro problema. Quella è l'istituzione preposta. Non possiamo sempre abbedicare e rinunciare alla vera democrazia. Quando qualcosa deve... Noi, ogni volta che mettiamo in discussione un'istituzione, mettiamo in discussione la democrazia e la libertà di quei cittadini... Ormai la provincia di Agrigento, sulle questioni dell'ATI, si è pronunciata. Non può tornare indietro dalle scelte fatte. Tantomeno lo può fare una sovrastruttura nazionale o regionale che si permette di voler decidere per quei cittadini che hanno già assunto le loro decisioni. Questa è una filosofia che dobbiamo cambiare. Un ruolo importante, continuerete ad averlo sicuramente. Da un comitato all'altro, poco fa io lo anticipavo, lei va parte di tutti i comitati che hanno a che fare con le tematiche di interesse generale. Il comitato per la sanità non è il coordinatore, non è il portavoce, però è uno dei fondatori, di quelli che si sono fatti i promotori di questa Costituzione. L'ospedale ne abbiamo parlato un po' meno ultimamente, non perché la situazione sia tutta rosa e fiori, ma perché sono esplose altre emergenze. Però le chiedo, ci sono delle iniziative, avete avuto ulteriori contatti anche con l'assessorato per capire come poi le previsioni del piano, di riorganizzazione, saranno calate nella realtà pratica. Intanto c'è un fermento particolare in questo momento, tant'è che a livello nazionale si parla delle carenze di organici. Quindi noi ormai sono congenite nel sistema delle reti siciliane. Il fatto che non si fanno concorsi da tantissimi anni e le carenze sono notevoli e importantissime per portare avanti le strutture ospedaliere. Il comitato della sanità è un comitato molto competente. Io sono lì molto presente, lo sa il comitato, però abbiamo un portavoce, abbiamo delle grandi competenze che molto spesso non emergono. Non abbiamo solo il Franco Giordano e Ignazio Cucchiara, ma è composito quel comitato ed è molto efficace, anche perché gli incontri con le istituzioni sono stati spesso, con i commissari all'ora, con quelli che dovrebbero essere. Diciamo che il problema della sanità è sempre all'attenzione. Noi nel nostro social del comitato, diciamo, è giornaliera, è costante. Non abbassate la guardia, possiamo stare tranquilli. È giornaliera, è costante l'attività e non sfugge nulla. Quelli più competenti di me mi danno la possibilità, diciamo, di avere i dati, però sulla sanità sapete che è molto, diciamo, efficace ed efficiente quella che sta funzionando come comitato e speriamo che prima o poi si risolva il punto nevralgico. Non possiamo stare con dei commissari ad Agrigento senza che ci sia un direttore. Anche qui, ecco, c'è andato via il direttore generale, siamo per carità nelle mani di persone abilissime, tra l'altro direttore già ai tempi di Santonocito. Però, dico, la regione da quattro mesi, possiamo dire, da quattro mesi deve nominare il direttore generale. Non lo fa qua, non lo fa ad Agrigento, perché la cosa, la provincia di Agrigento è l'ultima in tutte le statistiche. Siamo dimenticati da tutti. Si vuole quasi lasciarla lì, in quella posizione. Nessuno se ne preoccupa, né sul piano dello sviluppo, né sul piano della sanità, né sul piano sociale. Io dico, ma sta terra deve essere sempre abbandonata, ma ci vogliono sempre i comitati che devono risolvere queste questioni. Meno male voglio dire che ci siano. Però, prima o poi, dobbiamo cominciare a pensare che questi non sono argomenti che devono risolvere sempre e comunque i comitati. Noi chiediamo da mesi, e l'abbiamo fatto nelle istituzioni e nei posti giusti, con il Comitato Sanità, chiedere insistentemente la nomina di un direttore generale che non sia un commissario. Nessun commissario si assumerà mai la responsabilità. Così come i famosi commissari del lato, poveretti del lato idrico, quando li incontravamo, verificavamo che non ne capivano nulla e che erano oggetto e mercè dei dirigenti, dirigenti che ci sbeffeggiavano. Se questo non avviene nella sanità, se non si mette il dirigente competente nel ruolo e soprattutto con mandato definitivo, non avrà mai la possibilità di modificare alcune cose. Perché potrà essere sempre ostaggio di contestazioni e quindi di oscillazioni politiche, perché poi è quello che funziona. Dipende come va il pendolo e allora tu ti trovi quel dirigente che vada in una direzione oppure in un'altra. Noi abbiamo bisogno di gente competente, qualcuno c'è stato come commissario, ma era sempre un commissario e per quanto avesse quel ruolo non poteva assumere decisioni definitive perché sapeva la sua condizione di precario che non gli consentiva di mettere a punto i progetti complessivi. Perché di quello si tratta. Abbiamo parlato di terme, di acqua, di sanità, comitati tutti dei quali fa parte, però lei da alcuni mesi è tornato alla guida della Camera del Lavoro di Sciacca e questo l'incarico non principale, nel senso che non ci può essere una classifica delle priorità, però è un ruolo non indifferente a fronte della situazione di crisi in cui ci troviamo, aggravata ultimamente dagli ultimi fatti. Che cosa significa guidare la Camera del Lavoro di Sciacca, quella che porta il nome di Accurso Miraglia? Diciamo che da quando sono stato nominato ad oggi di fatto forse non l'ho manco iniziato a fare il segretario della Camera del Lavoro, se non occupandomi di problemi sociali di cui un sindacato si occupa, che sono appunto queste questioni di cui abbiamo discusso fino ad ora. Quindi in fondo l'ho svolto la mia funzione, ma dedicandomi a questi due aspetti. Tenuto conto che invece io penso, ho sempre pensato dal 2010 in poi, che ho svolto un ruolo che mi piace, un ruolo diciamo delle parti sociali che si occupano veramente dei problemi e non hanno il problema di affermarsi politicamente, anche se non riesci a raggiungere quegli obiettivi. È più bello, è più interessante perché non ti impegna diciamo in un'ambizione e poi arrivare ad essere, a spalleggiare con gli altri per difenderti da una posizione politica. Tu svolgi una funzione che è sociale, una funzione che diciamo di tutela degli interessi dei cittadini. Da parte nostra l'organizzazione sindacale si occupa di quello che è lo sviluppo, il lavoro, la dignità, tutte cose che sono per me belle. Io ho fatto questa esperienza così come ho fatto quella politica quando ho fatto il consigliere comunale nel 99, sono stato anche il segretario del DS, sono stato il coordinatore. Lei è stato uno di quelli più attivi da segretario della CGL perché ha già ricoperto in passato questo incarico nel sollecitare un confronto con l'amministrazione comunale, si è sempre sentito rispondere, ma l'amministrazione che tipo di risposte può dare in termini di lavoro? Lei invece ha sempre avuto una visione diversa dell'approccio e di quello che deve essere il rapporto tra amministrazione e sindacato? Ma questo l'ha inventato diciamo... Non ci è riuscito però, finora non mi pare che abbia ottenuto riscontri. No, mi sono considerato sempre un po' un Don Quixote, ma non voglio esserlo un Don Quixote, quindi... Allora la provoca, ma l'amministrazione non è che può dare posti di lavoro o può risolvere il problema dell'economia? Mai pensato, mai pensato. E allora, negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni diciamo che quello che è stata la scoperta migliore che ha potuto fare un periodo importante della politica italiana è stata Ciampi con la concertazione, che qualcuno ora vorrebbe riprendere, qualcuno comincia a ripensare alla concertazione. Dopo aver distrutto, ho tentato di distruggere tutte le componenti delle parti sociali, ho tentato proprio di eliminarle dal contesto, le parti sociali, oggi si scopre che le parti sociali diciamo sono importanti. Probabilmente le parti sociali hanno sbagliato, noi abbiamo sbagliato, noi stessi abbiamo ammesso che sul lavoro abbiamo sbagliato a tutelare alcuni, che erano soprattutto... Ad avere posizioni che non erano al pari con i tempi. Abbiamo sbagliato, ma abbiamo provato a recuperare, abbiamo recuperato con la raccolta delle firme per il nuovo statuto che tutela anche le libere professioni, le partite IVA. Noi siamo quelle parti che diciamo hanno le loro idee chiare nella tutela e nella dignità dei lavoratori e possiamo dare il nostro contributo. Quando si sollecita l'amministrazione a cercare di parlare di lavoro, di sviluppo, di crescita, non si dice dai il posto di lavoro così. È chiaro che io ogni volta che parlo della possibilità di creare dei tavoli dove concertare e discutere di tutte le problematiche che attengono allo sviluppo e alla crescita di questo territorio, l'ho fatto sempre per dire che le imprese creano oggi lavoro. Pensare al posto di lavoro come si fa nel film che dice che il posto di lavoro è la cosa che è più ambita ormai dagli italiani. Noi diciamo che solo con lo sviluppo, con la ricchezza vera, cioè se io coltivo e produco grano creo ricchezza e la mia famiglia vive. Se io creo un bottone e allora lo vendo, io vivo. Perché è importante questo confronto anche a livello locale? Cioè perché è l'amministrazione Valenti? Siete riusciti con l'amministrazione Valenti a... No, ma io purtroppo ancora con l'amministrazione Valenti non ho fatto nessun... Non ci ha provato lei ancora. Perché mi sono occupato di queste questioni. Ma è chiaro che adesso diciamo è il momento di iniziare. Hanno iniziato con la manifestazione del 25 proprio per dire che lo sviluppo nasce anche dalla creazione delle infrastrutture. E lì un segretario camera del lavoro non può arrivare. Però lì dove ci dobbiamo occupare di questi problemi, di queste tematiche, è chiaro che dobbiamo anche discutere di quali sono le risorse non sfruttate. Io voglio mettere al tavolo tutte quelle diciamo categorie economiche, sociali, imprenditoriali e le parti sociali che vogliono discutere di quali sono le ricchezze di questo territorio, di come si snellisce la burocrazia. Perché io sono straconvinto che senza bisogno di norme particolari un'amministrazione che si rispetti deve essere capace di ridurre del 30% l'attività, chiamiamola burocratica, che blocca tutto nei comuni. E allora quella è un'attività che deve svolgere il comune. Mettere le parti sociali insieme e dire perché la marineria soffre, e la marineria soffre, dire perché l'agricoltura produce ma non sa mettere nei mercati giusti il suo prodotto e lo vende a 0,20 quando altri mercati diciamo vendono a quello. Tutto questo va studiato, è una valutazione che si fa con lo studio e se tu metti tutte le categorie insieme. Anche quelle categorie che litigano fra di loro. Senta, ma questo le volevo chiedere. È fattibile in una città in cui si litiga per tutto le vicende politiche? Sono passate in secondo piano nelle ultime settimane tra carnevale e coronavirus. Ma noi siamo sempre con una mozione di sfiducia che ognuno interpreta a modo suo con un clima politico di scontro perenne. Lei auspica una concertazione, un tavolo di confronto tra politica e parti sociali. La politica non riesce proprio ad avere questo confronto. Lei tra l'altro, lo ricordava poco fa, è stato consigliere comunale ai tempi del sindaco Cucchiara. Lo sa qual è il livello della discussione qui in città e non si è mai riuscito a superare. Da questo punto di vista non è cambiato niente, possiamo dire o anzi è peggiorata la situazione? È peggiorata. Io dico di uscire dalle comiche oppure se non proprio uscire dalle comiche, quantomeno usciamo ormai da quello che ci contraddistingue, Sciacca, Dalle Perollo e Conte Luna. Ma è fattibile uscire da questa contrapposizione? Cioè è auspicabile? Allora, bisogna superare questo livello. di confronto che piace nella misura in cui nei social si diverte a dire tutte le assurdità che ognuno nel privato della sua stanza si permette di scrivere, di dire perché non ha manco il confronto. Però dico, quando poi ti vai a confrontare, tu questo livello così scadente, te ne accorgi. Il problema è che nessuno si prende carico di cominciare a fare in modo che la politica possa veramente emergere, che possa uscire fuori nella qualità, nell'interesse del cittadino. Ma qui è una contrapposizione tra le parti, perché l'amministrazione con il sindaco sostiene e io ho lanciato dei segnali, io ho detto di essere aperta a discutere con chiunque. L'opposizione ribatte, sì, lo hai fatto, ma lo hai fatto troppo tardi e comunque non nelle giuste modalità. Non è un problema di dichiararlo, è un problema di esserlo. Nel senso, qualunque dichiarazione facciamo attraverso le televisioni, sociali, media, se non servono, se non si fa quello che predicano, io mi permetto di dirlo, ma come dire, penso che la politica è la cosa più importante, ma le sardine hanno lanciato un messaggio. Il punto è, questo messaggio che hanno lanciato le sardine, cioè quello di essere morigerati, di non ne offendere, di vedere veramente, di andare alle questioni e affrontare le questioni, è qualcosa che si può raggiungere. Noi dobbiamo sforzarci di farlo. Io, nonostante sia litigioso, nonostante tutti mi conoscono perché sono presuntuoso. Alla fine, se vogliamo, questi miei grandi difetti che ci sono, poi alla fine io sono uno che pondera, che ragiona e che pensa che ci vuole un modo anche di ragionare sulle questioni. Se questo nessuno se ne fa carico, io sono sempre convocato per questo, per quell'altro e mi presento a tutti i tavoli e cerco di ragionare con gli altri, nei comitati. Come si esce dalla situazione politica incartata, ingarbugliata, nella quale ci siamo trovati a sciarca? Anche alla luce delle sue esperienze. Se la battaglia è sempre per fare il sindaco o se fare per le campagne elettorali, non ci arrivi. A me pare che questo è sempre evidente, cioè questa competizione per la conquista del potere. Oltretutto in questo momento, ma cosa vuoi conquistare? Cioè voglio dire, è così difficile andare, oggi quali condizioni ci sono per andare a amministrare? Chiunque si sta proponendo oggi per andare a vincere le elezioni prossime che tutti provano anche ad averle domani. Ok, se avete un progetto vero, se avete un disegno vero, è giusto provare a fare la sfiducia. Ma la sfiducia che si è messa in cantiere in questi giorni, io credo che non c'è fallimento peggiore. Perché se tu quando vuoi costruire la fiducia, la costruisci dicendo votiamo la fiducia e niente si è messo in discussione su questa vicenda, niente si è discusso. Cioè lei dice che dovrebbe essere pronto un progetto politico alternativo per il sindaco Valenti. Non posso sbandonare. Ma non significava allora voler dire levati tu che mi ci metto io, che sono più bravo? Ma infatti lì la professione. Si riduce tutto a questo però. Ma brava, ma come dire, devo rispondere a una questione. No, nel senso che... Cioè levati tu che mi ci metto io, ma per fare cosa? Cioè cosa mi stai proponendo? Mi stai chiedendo di fare la sfiducia? Qual è diciamo il prossimo passaggio che ci sarà? Chi sarà che vuole fare questa sfiducia per conquistare lui? Lasciamo stare il potere. La possibilità di amministrare questa città. Se la vuoi amministrare con quale disegno? Ah tu la voti, tu la voti, io la voto, tu non la voti. Ah tu non la vuoi votare? No, la voto io. Andare a cercare questi voti di sfiducia sul nulla. Per essere cari, quindi ci voleva il progetto ma di che tipo? C'è un progetto alternativo di guida della città in futuro o un progetto che mettesse assieme anche... Se avessero fatto una dichiarazione di sfiducia provocatoria e allora da lì si innestava un ragionamento politico e forse sarebbe stato compreso che era provocato. Ma lì c'era veramente la volontà di creare una condizione di sfiducia e quella condizione di sfiducia nessuno, parlo degli addetti ai lavori, nessuno in politica comprendeva cosa rappresentava e quali erano i progetti di chi aveva proposto quella sfiducia e di come si voleva portare avanti, con quali progetti, con quali disegni, con quali alleanze. Si chiedeva ad un gruppo di votarla quando sappiamo che quel gruppo, senza diciamo la sua papella, non l'avrebbe mai votato. Ma di cosa discutiamo? Quindi andava... Io faccio il sindacalista, purtroppo mi sono lanciato anche in questa osservazione che un sindacalista di fatto forse non dovrebbe fare ma sono anche un cittadino. Ma sono un cittadino che ha le sue opinioni. Le chiede l'ultimo, c'è una possibilità, questo che ormai almeno per la situazione si è momentaneamente calmata, quindi ufficialmente siamo distanti due anni e mezzo delle elezioni. Tra due anni e mezzo Franco Zamuto potrebbe essere tentato nuovamente dopo l'esperienza fatta con Cucchiaro? Quella le è stata sufficiente? Guardi, a me piace la politica e la faccio. Io mi sono anche candidato prestando un servizio a quella che era la mia idea politica. Ma sono stato come un generoso perché mi sono... Si è sacrificato, diciamo così, per il... Pensare di vincere... Nel progetto di Leo. Nel progetto di Leo. Nel progetto di Leo, insomma, sarebbe stata una cosa assurda. Quindi la passione ce l'ho sempre e la mia etichetta politica c'è tutta, quindi non devo negare nulla, tantomeno farlo qui di fronte a una telecamera per dire fesserie, insomma. Mi riderebbero tutti gli amici miei e tutti quelli che mi conoscono. Però voglio dire, non si può... Io mai penso più di fare politica in quel senso, perché i ruoli che ho ricoperto mi hanno appassionato e mi sono piaciuti, perché io non ho l'obbligo di rappresentare un'idea politica, io ho l'obbligo di fare capire. È molto più interessante, dice lei, affrontare le tematiche da un altro punto di vista, cioè quello di un comitato partecipato con tanti cittadini che hanno la possibilità. la politica. Quello che facciamo, perché ho detto che i comitati non dovrebbero esserci, se i comitati ci sono, è il fallimento della politica. Io di fatto faccio in questo senso politica, nel senso che mi imbarco in situazioni, tutti mi hanno sempre detto, che le battaglie che affronto sono titaniche. Beh, io la battaglia totale l'ho vinta, so che non me ne darà mai, lo dico io nel senso il Comitato Intercopa, il Comitato Intercopa, la sua battaglia alla vita, nessuno ce ne darà mai merito. Nel senso che noi siamo stati una parte importante della risoluzione a Girgenti Acque, fondamentale, perché noi, il Titano si è costituito nel 2017, risoluzione già, diciamo, avviata. Quindi noi siamo stati protagonisti. Questo merito, e ci dicevano, ah, tu ti metti contro uno che ha il Tribunale, la giustizia, le amministrazioni, le cose, ma cosa vuoi fare tu, bla bla bla. Beh, Intercopa ha raggiunto l'obiettivo e gli si vuole dare il 5%, abbiamo il 5% di merito di avere affrontato una situazione titanica e l'abbiamo vinta. La questione delle terme è più politica, ma va affrontata come l'abbiamo affrontata, anche mettendo alla berlina la politica, spesso, perché dobbiamo fare capire anche ai cittadini che non si può sempre votare nel modo così. Quindi lei dice, sintetizzo perché siamo ormai in conclusione, un frango dovuto potremmo parlare sì, per più di un'ora. Quindi lei dice, io sono molto più entusiasta di fare politica in questo modo rispetto al ruolo etichettato di un consigliere, di un amministratore, di un assessore. Non ho detto una cosa vera però, non mi voterebbe nessuno. Ah, dimmi, ti temi il confronto con l'elettorato. No, no, no. Stiamo scherzando. No, quello no, perché ho sempre la consapevolezza. Anche un voto è un voto importante. Allora, io sicuramente non mi fermano quelli che quando mi vedono non mi, diciamo, non comprendono la mia, oppure non mi piaccio a tanti. Ma ogni tanto qualcuno, diciamo, che mi ferma, pur non conoscendo, mi dice, io apprezzo le cose che lei fa, queste piccole soddisfazioni, che sono vere soddisfazioni, già mi appagano per quello che faccio. E sono battaglie che faccio e che conduco, sicuramente non per pagare io una bolletta, anche una paga, non la paga mia madre, quindi figurate. Ha pure questo privilegio. Grazie, grazie a Franco Zamuto. Auguri per le battaglie che nei vari comitati, perché noi abbiamo sempre salutato positivamente la costituzione dei comitati, abbiamo sempre riportato le iniziative dei comitati, proprio perché sono quelle che poi svolgono un ruolo importante. Grazie quindi per aver partecipato alla trasmissione, grazie a voi per averci seguito e all'Arterredi che ci ospita. Appuntamento alla prossima settimana.